Le stelle, i Galacticos, il Real Madrid, al Gallucci di Solofra, è iniziato lo stage dei Blancos in collaborazione con l'essere di Cantera Avellino del presidente Antonio Candella. Innovazione, ambizione, voglia di emergere il giusto mix che potrebbe regalare ad un baby talento irpino un giorno da favola, con i campioni d'Europa del Real Madrid, The Sir Carlo Ancelotti, al Santiago Bernabeu. Sono 35 bambini nati dal 2007 al 2014, seguiti da due allenatori della Foundation Real Madrid. Sul manto sintetico dello stadio Solofrano, i baby atleti stanno svolgendo sessioni di allenamento impegnative con metodi e tecnologie di training all'avanguardia. All'esempio c'è il bazooka, miniporte pop-up, lo skill shirt, casacche multicolore, per stimolare le capacità cognitive degli atleti, il Corpus Rasenreich, pallone di forma irregolare, e la Sport Station, dove gli allenatori interagiscono nel programmare le sedute tecniche con le più moderne attrezzature per il calcio. Ad ogni partecipante, inoltre, sarà garantita un'applicazione gratuita che fornisce molte informazioni interessanti sul Clinics e sul calcio giovanile generale. L'app metterà inoltre all'esposizione una digital scorecard individuale sulla quale saranno riportate le prestazioni durante il clinic. Questa app si chiama Foundation Real Madrid Clinic e si può scaricare dall'App Store e da Google Play.